Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Ancora problemi legati ai tentativi da parte di hacker di attaccare il sistema informatico della giunta regionale abruzzese. I dipendenti della regione Abruzzo si sono visti recapitare messaggi di posta elettronica provenienti dall'indirizzo amministrazione di sistema. In una nota interna dal titolo Mail Malevole, inviata ai circa 1500 dipendenti, i sistemi informatici regionali informano che sono arrivate e stanno arrivando mail strane con l'intento di rubare le credenziali di accesso ai sistemi. I dirigenti regionali e i tecnici informatici invitano a cestinare le mail senza cliccare su alcun link in esse contenuto e raccomandano, nel caso in cui abbiate erroneamente cliccato sul link, siete pregati di informare immediatamente l'assistenza informatica. Questa è la raccomandazione per i dipendenti della regione Abruzzo. Da mesi i pirati hanno puntato gli enti pubblici regionali. I tentativi sono stati finora respinti con conseguenza comunque di problematiche eccezion fatta per la ASL provinciale dell'Aquila, il cui sistema è stato messo fuori uso da un attacco sferrato il 3 maggio scorso che ha paralizzato servizi e prestazioni e che vede vertici dirigenziali e tecnici riuniti in una task force in prima linea nell'affannosa ma ancora improduttiva ricerca di un ritorno alla normalità. Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Ortona alla CI4 che ieri ha soccorso 17 persone, tra cui 9 minori non accompagnati nel tratto di mare tra la Libia orientale e la Tunisia. La ristanza del porto sicuro assegnato lamenta la ONG e tre volte quella del porto più vicino, ovvero sia il porto di Pozzallo. La CI avrà probabilmente bisogno di quattro giorni e mezzo per fare 1300 chilometri. Attraverso un tavolo tecnico che nelle prossime settimane dovrà definire velocemente alcuni ultimi dettagli, tra non più tardi di un mese andremo alla ripartizione della nuova programmazione 21-27. Si tratta di nuovi, importanti investimenti per la Regione Abruzzo e siamo soddisfatti sia per il percorso intrapreso, sia per il riconoscimento ottenuto da parte del Ministero e dell'intero Governo nazionale sul buon lavoro che la nostra Regione sta facendo. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marsilio, al termine dell'incontro bilaterale con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e le PNRR e la Regione Abruzzo, avvenuto ieri pomeriggio a Roma. Marsilio ha spiegato che si è trattato di un incontro positivo per coordinare istituzionalmente le Regioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la programmazione e l'impiego dei fondi nazionali ed europei, compreso il PNRR. Per questo, ha detto Marsilio, il Ministro Fitto ha voluto fare anche una ricognizione sui fondi europei dello scorso ciclo di programmazione che finiva nel 2020 e che stiamo terminando, sul quale il Ministero ha riconosciuto in passi in avanti l'ottima prestazione della spesa della Regione Abruzzo. Luciano Di Lorito, ex sindaco di Spoltore, è stato nominato ieri direttore della CNA provinciale di Pescara. Al nostro microfono le sue prime parole dopo la nomina. Con che spirito accoglie questa nuova nomina? Con la responsabilità che impone un ruolo così importante che è la gestione di un'associazione che è sviluppata su quattro sedi nella provincia di Pescara, che ha nel suo organico oltre 50 dipendenti e che associa oltre 2.000 imprese nella provincia di Pescara. In podcast sulla nostra pagina YouTube Radio Speranza Pescara e Facebook Radio Speranza potete trovare l'intera intervista con Luciano Di Lorito, nella quale parliamo anche della nuova Pescara e del manifesto programmatico che CNA, Confesercenti e Confartigianato stanno mettendo a punto su questo tema. Intervista che Andrè Nonda ha a servizio interviste oggi alle 18.13. Dal 26 maggio la dottoressa Alessandra Di Lorito, medico di medicina generale a ciclo di scelta nell'ambito territoriale di Pescara con incarico temporaneo, secondo quanto prevede la normativa, ha aperto lo studio medico nel comune di Pescara in via del santuario 181. Tutte le informazioni sui medici di medicina generale della ASL di Pescara sono riportate alla pagina del sito della ASL dove c'è la lista medici. E veniamo ai premi Flaiano e a quello per Franco Cordelli, la cui fisionomia ricordano gli organizzatori del Flaiano e quella che, con parola non troppo più in voga, si sarebbe detta in altri momenti di intellettuale, saggista, letterario, critico, teatrale per il Corriere della Sera, polemista. Cordelli è però soprattutto uno scrittore delle caratteristiche originali e severe e ostinatamente mai alla moda che nel corso del tempo lo hanno reso maestro di pensiero letterario. I suoi romanzi, la cui pubblicazione si inaugura negli anni 70, sono diventati titoli proverbiali, da Procida a guerre lontane, da un inchino a terra alla mare umana a una sostanza sottile. I pezzi raccolti in Tao 48, collana a cura della nave di Teseo, coprono 40 anni di scrittura e perciò, come i paradigmi dei verbi antichi, sono voci esemplari che servono a ricavare e scrivono ancora agli organizzatori del Flaiano tutte le altre voci necessarie allo scrivere, a leggere, al vivere e all'interpretare. Ogni prosa parte dal nome di un luogo di Roma pronto a farsi evocazione o simbolo, ma l'ultima si intitola Marte. Sono Franco Cordelli, dice un personaggio incontrandone un altro e aggiunge, so che lei è lo scrittore Agno Flaiano. Così in Tao 48 appare anche colui al quale il premio è intitolato. Flaiano è stato per Cordelli un riferimento, dunque oltre al resto il premio gli viene conferito anche per le competenze flaianee e per la passione per Flaiano. Conclude Raffaella Manica, componente della giuria tecnica del premio internazionale Flaiano di Narrativa. Una giuria che è composta da Renato Minore, presidente Donatella di Pietrantonio, Raffaello Palumbo Mosca, Maria Rosario Lamorgia, Fabio Bacà, Elena Leda e Giulia Alberico. Con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole si chiude la stagione teatrale Aquilana del Teatro Stabile d'Abruzzo, mercoledì 31 maggio. Ridotto del Teatro Comunale alle 17.30 alle 21.00 in scena. Non svegliate lo spettatore per la regia di Davide Cavuti con Lino Guanciale, una produzione proprio del Teatro Stabile d'Abruzzo in collaborazione con Stefano Francioni Produzioni. Un omaggio a questo spettacolo, alla vita e alle opere di Flaiano, scrittore e sceneggiatore di numerose pellicole dirette da Federico Fellini, come Vitelloni, La strada, Le notti di Cabiria, La dolce vita, Otto e mezzo, da Alessandro Blasetti, Peccato che sia una canaglia, Esteno Monicelli, Guardie ladri. Il titolo è ispirato dalla raccolta di critiche teatrali, lo spettatore addormentato spiega l'attore Lino Guanciale. E si svolgerà oggi alle 11.00 al Teatro Auditorium Flaiano di Pescara, sul lungomare Colombo, lo spettacolo teatrale Camminerò a un passo da te, organizzato dall'Istituto Alberghiero e Turistico Ipsar de Cecco di Pescara, officina del teatro inclusivo, con l'associazione Diversi Uguali per la regia delle docenti Cinzia Chiaiese e Caterina Pozzi. Lo spettacolo di recitazione, danza e musica spiegato da dirigente dell'Istituto Alberghiero de Cecco, Alessandra Di Pietro, nasce all'interno del progetto di inclusione dei nostri studenti, che hanno una diversa abilità o una difficoltà, e vuole essere un momento di condivisione incontro con il territorio, le istituzioni, le famiglie, per presentare i frutti del lavoro collotto ogni giorno sui banchi della nostra scuola. L'intento è quello di favorire un rapporto di continuo scambio e soprattutto di piena integrazione dei nostri ragazzi, che attraverso il nostro istituto hanno modo di crescere e di apprendere in un ambiente protetto, ma comunque aperto al mercato del lavoro, che deve prepararsi e raccoglierli, creando le basi per consentire loro una perfetta autonomia. E siamo alle previsioni del tempo, sull'Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con annuvolamenti al mattino nel Terramano, con possibili rovesci in attenuazione in mattinata, sull'Alto Sangro, nel Chietino e localmente nel Pescarese, miglioramento nel corso della mattinata con ampie schiarite, tuttavia dalla tarda mattinata la nuvolosità tornerà ad intensificarsi sulle zone interne e montuose, con rovesce temporali anche di forte intensità, che dalle zone interne, Marsica, Aquilano, Valle Peligna e Alto Sangro tenderanno ad estendersi verso le zone pedecolinari del Chietino, localmente nel Pescarese, con possibili sconfinamenti verso le aree costiere. Non si escludono forti temporali sull'Alto Sangro e il Chietino, con particolari possibili gradinate, e quindi dalla serata nel corso della nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Temperature generalmente stazionarie o in diminuzione nelle aree interessate dai temporali, venti generalmente deboli, specie lungo la fascia costiera, mare poco mosso, con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio. Con i dati di abruzzometeo.org noi ci salutiamo, grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.